Che cosa? Ragazzi non esiste, non ce la posso fare, due contro undici è impossibile Non ce la posso fare e basta Mi serve un lanciamissili e non c'è Due contro undici Il mio compagno sta uccidendo perlomeno Il mio compagno è morto, è uno contro undici adesso Zitti tutti, zitti tutti Se mi trovano sono morto L'ho preso, molto probabilmente stanno arrivando a prendermi E quella là ce n'è uno Dai 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 e muori E muori tu Tavita Shai Diamoci gli scudini